Dovete sapere che in Italia si corre sempre si corre sempre e mai 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 una volta si sta tranquilli quindi la mattina ci alziamo e diciamo oggi sarò tranquillo non mi farò perseguitare da nessuno e vivrò la mia giornata lentamente poi ci laviamo la faccia, facciamo colazione, poi apriamo la porta di casa e l'unica cosa che ci viene in mente da pensare è quindi puliamo la nostra faccia, abbiamo una signadania e apriamo la porta e andiamo fuori e la prima cosa che pensiamo è ma vaffanculo poco fa ero lì sempre scattando, sempre in movimento, non mi do tregua, io non rallento mai proprio mai per la paura che ho del tempo perso, io non sto fermo, non tergiverso sento necessità di avere addosso il vento, sfidarlo come un surfista, resto in fibri brillazione, attento ad ogni ingesto per non finire a cambiare l'aria, corro superando i limiti e sono raffiche di tempo quelle che mi inseguono e non mi danno un schiampo corro senza neanche un alibi che mi dia un attimo di pace e corro costringendovi di andare ancora più veloce sono qui non più lì mi ero concesso di riprendere il fiato mi ero convinto, mi ero sdraiato un po' E invece no Mi ha preso il panico di chi si annoia Di chi si sente in sala moia Penso al bisogno che ho di dare a tutto un senso Contrasto come un terzino gioco D'anticipo sul mio avversario e imprego Se poi finisco a campi e all'aria Corro a scavalcambini E sono raffiche di tempo quelle che mi zemono E non mi danno scampo Corro senza neanche un alibi Che mi dia un attimo di prego Corro costringendovi di andare ancora più veloce nell'universo Cerco un angolo di calma e silenzio Diverso restare immerso In pensieri freschi senza paure Di ritrovarmi a campi e all'aria Corro e non mi danno quasi mai e non respiro Corro e non respiro quasi mai e non respiro Corro e non respiro quasi mai e non respiro quasi mai Il mio ultimo album è una provocazione, parla di un'obsessione di arrivare al topo della piazza, il musicista vuole arrivare al topo della piazza, per essere famoso, molto importante. Il mio album concetto parla di tutti questi argomenti e la ricerca continua della canzone per arrivare in testo alle classifiche. Suo l'ultimo album promozio è 30 suoti. È un'album concetto e ogni canzone expressa una forma di arrivare al topo della piazza. Il nome dell'album è il topo della piazza e in ogni canzone c'è una tecnica, un modo, un modo per arrivare al topo della piazza. Eronicamente. Ehm, ho una traduzione per te, non nemmeno, non nemmeno, mio amico. Eronicamente questa canzone per arrivare al topo della piazza. Alla prossima.